Il premio UNESCO della pace va al sindaco di Lampedusa, Giussi Nicolini. È un tributo alla memoria delle tante vittime della tratta di esseri umani nel Mediterraneo, ha commentato il sindaco dopo le congratulazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La Nicolini ha voluto dedicare il premio anche al giornalista Gabriele Del Grande, attualmente detenuto in Turchia. Lui è stato il primo, attraverso un sito, a contare i morti nel Mediterraneo quando ancora nessuno se ne occupava. Chiedo che il governo del nostro paese riporti a casa presto Gabriele. Il primo cittadino, inoltre, per l'occasione, ha ricordato l'invito all'accoglienza lanciato da Papa Bergoglio nel corso della sua prima visita pastorale a Lampedusa nel luglio del 2013. È l'unico che ha le idee veramente chiare, ha detto il sindaco, speriamo che il suo insegnamento illumini anche le menti dei governanti e degli europei che nei prossimi mesi andranno a votare. Un riconoscimento dedicato dunque a chi si è particolarmente distinto per aver salvato la vita a numerosi rifugiati e migranti e averli accolti con dignità nel soccorso, si legge nelle motivazioni della giuria. Il premio UNESCO, istituito nel 1989, è un riconoscimento a tutte le persone, istituzioni e organizzazioni che si sono distinte per la ricerca della pace. Sono stati premiati tra gli altri François Hollande, Nelson Mandela, Shimon Peres e Yasser Arafat. SOS Mediterranea, l'ONG premiata quest'anno insieme alla sindaca di Lampedusa, opera con una nave in partnership con Medici Senza Frontiere che ha soccorso e tratto in salvo migliaia di profughi nel Mediterraneo. Grazie. Grazie.